E' stanco di aprire e poi richiudere il grande mondo dei parrucchieri, ci siamo adeguati e chiediamo semplicemente di poter offrire un servizio utile ai nostri clienti nel rispetto delle normative anti-covid. Nella BAT da Barretta l'appello dell'Associazione Parrucchieri Della cura della persona abbiamo bisogno di dare qualcosa alla gente, la gente comunque continua e comincia a chiamarci per esigenze, comincia a chiamarci per essere servito e onde evitare di sviluppare nuovamente il lavoro nero nei box, nei sottani, porta a porta dove ci può essere più sviluppo del virus, siamo costretti a rimanere chiusi nelle nostre attività. E' meglio che i clienti, gli amici, i parenti vengono a trovarci nella nostra attività dove noi abbiamo aperto in sicurezza, con il distanziamento, con le mascherine, con gli igienizzanti, con la prenotazione, rapporto uno a uno. Credo che sia una cosa semplice da riportare nuovamente. Noi chiediamo alla nostra regione, al nostro governo, ai nostri sindaci che ci aiutano a ritornare come stavamo prima. Arrivano le scadenze, luce, affitti, bollette, mutui. Nessuno ci aiuta. Noi come facciamo ad andare avanti? Ristori e sostegni arrivano dopo mesi, agli aiuti preferiamo il lavoro, chi sbaglia paga. La cosa che chiediamo di più è continuare a lavorare, continuare a lavorare come stavamo facendo, perché comunque è straordinario vedere anche la clientela rispondere in un determinato modo. E quindi la sicurezza noi ce l'abbiamo, ce l'abbiamo messa tutta, ci siamo riusciti a lavorare in sicurezza. Ed oggi cosa è successo? Di nuovo a casa. Dopo un anno siamo di nuovo a capo, le spese ci raggiungono sempre di più, si accavallano. Noi chiediamo almeno questo, di ritornare a procedere il nostro lavoro in dovuta sicurezza e tranquillità.